Utilizzo di sicurezza di Windows per la prevenzione di virus e spyware in Windows 11. Sicurezza di Windows è un componente di Windows, che aiuta a prevenire le infezioni da malware, tramite opzioni di scansione e protezione in tempo reale. Passaggio 1. Attivazione di sicurezza di Windows. Dal desktop, cercare e aprire sicurezza di Windows. Controllare il messaggio nell'area di protezione antivirus. Se sull'icona dello scudo è visualizzato un cerchio verde con un segno di spunta e sotto è visualizzato il messaggio Nessuna azione necessaria, significa che sicurezza di Windows è abilitata. Se sull'icona dello scudo è visualizzato un cerchio rosso con una X e viene visualizzato il messaggio Azioni necessarie, fare clic su Attiva per abilitare sicurezza di Windows. Passaggio 2. Esecuzione di una scansione per individuare e rimuovere virus e spyware dal PC. Nella finestra Sicurezza di Windows, selezionare Protezione da virus e minacce sul lato sinistro. Fare clic su Analisi veloce per controllare i punti del disco rigido maggiormente esposti a rischi malware. Se non vengono rilevate minacce, non è necessario eseguire alcuna operazione. Se vengono rilevate minacce, scegliere una delle opzioni visualizzate, ad esempio Pulisci minacce o avvia azioni, per risolvere il problema. Fare clic su Opzioni di analisi nella finestra Protezione da virus e minacce. Nella finestra Opzioni di analisi, è possibile scegliere tra Analisi veloce, Analisi completa, Analisi personalizzata e Antivirus Windows Defender, Scansione offline. L'opzione Analisi completa controlla tutti i file e i programmi in esecuzione sul disco rigido. Questo tipo di scansione può richiedere più di un'ora. Selezionare il pulsante di opzione accanto ad Analisi completa, quindi fare clic su Avvia analisi per eseguire la scansione. L'opzione Analisi personalizzata consente di scegliere i file e i percorsi che si desidera controllare. Selezionare il pulsante di opzione accanto ad Analisi personalizzata, quindi fare clic su Avvia analisi. Viene visualizzata la finestra Seleziona cartella. Scegliere la cartella o la directory che si desidera analizzare e fare clic su Seleziona cartella per avviare la scansione. L'opzione Antivirus Microsoft Defender, Scansione offline, può essere utile per individuare e rimuovere il software dannoso che non si riesce a rimuovere direttamente dal dispositivo, utilizzando le definizioni aggiornate delle minacce. Selezionare il pulsante di opzione accanto ad Antivirus Microsoft Defender, Scansione offline, quindi fare clic su Avvia analisi. Prima di riavviare il computer, viene visualizzata la finestra Pop-up salva il lavoro. Salvare il lavoro e fare clic su Analizza. Dopo l'esecuzione di una scansione offline con Windows Defender, è necessario aprire i risultati per visualizzarli. Nella finestra Protezione da virus e minacce, i risultati della scansione offline vengono visualizzati nella sezione Minacce correnti, insieme alle opzioni che consentono di gestire le eventuali minacce rilevate. Fare clic sulla scheda Playlist di YouTube per trovare i video di HP in altre lingue. Cercare nel nostro canale i video ufficiali del supporto HP. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.